Visioni surreali, quel che resta di un sogno. Il tema di una mostra fotografica e pitografica collettiva che si terrà da oggi a sabato 2 giugno a Caltanissette, in un locale della Stratafoglia, zona caratteristica del centro storico cittadino. L'iniziativa dell'Associazione Culturale Fotonauti si inserisce nell'ambito della manifestazione culturale Sicilia Dunque Penso. Il tema sarà affrontato attraverso la personale interpretazione e rielaborazione post-fotografica degli scatti realizzati dai fotonauti, si legge nella nota di presentazione dell'evento. L'inaugurazione è prevista nel tardo pomeriggio alle ore 17.30. Sarà presente Pasquale Tornatore, Assessore Comunale alla Cultura.